Demetrio Scopelliti, nato a Reggio Calabria nel 54, dove ha frequentato il liceo artistico e l'Accademia di Belle Arti, dalle 76 è docente presso gli istituti d'arte di Reggio Emilia, Cosenza, Capodorlando, Milazzo e infine l'Ernesto Basile di Messina. A differenza delle precedenti inaugurazioni questa volta, seguendo il desiderio dell'artista si è applicato alla lettera il titolo dato a questi incontri e si è messa l'opera al centro, tralasciando i discorsi introduttivi e i ringraziamenti di prammatica. Così ci si è trovati di fronte ai quadri, in un impatto immediato e per alcuni aspetti spiazzante. Al centro, anche il maestro Scopelliti, che ha raccontato la sua arte con la sapienza e la generosità di chi vuole trasmettere allo spettatore, per renderlo partecipe, se non della complessità creativa almeno della spinta emozionale che ha prodotto l'opera. Scopelliti 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione!